Ciao ragazzi, buongiorno, un abbraccio a Delio e un abbraccio a Marcello Oggi voglio fare questo video naturalmente che non può parlare di Juve ma parla della nostra nazionale e come sempre noi che siamo 60 milioni di allenatori in Italia anch'io voglio dare il mio contributo, se si può dire così per sfogarmi dalla delusione e dall'amarezza di questa serata che abbiamo vissuto ieri Naturalmente oltre alla debacle tecnico e tattica della nazionale soprattutto di una confusione tale che in campo sembrava l'Italia che stesse giocando in 28 e non in 11 perché era veramente una confusione pazzesca Bisogna dire, e io lo dico, che forse non meritiamo e non avremmo meritato di andare ai mondiali perché i mondiali non si meritano solo per quelli vinti o perché porti la maglia azzurra o perché fai parte della storia Il mondiale lo devi conquistare con una vittoria sul campo meritartela perché sei in grado di meritartela e soprattutto perché hai programmato e hai saputo gestire i momenti meno facili durante il tuo cammino quello che non è accaduto all'Italia Dopo la disfatta di Madrid l'Italia è praticamente scomparsa non come sempre non si è avuto il coraggio di cambiare l'allenatore che ormai era in stato confusionale conclamato cosa che altri hanno fatto tipo la Croazia che ha dato l'opportunità a un allenatore che era vice di una squadra del campionato croato e hanno avuto questi attributi e hanno reso questa squadra più calma, più tranquilla e hanno portato a termine il loro compito cioè quello di andare ai mondiali Non voglio soffermarmi sulla questione tecnica della partita perché l'abbiamo vista tutti Voglio solo dire che quello che amareggia e che più dà fastidio è vedere questa continua e perenne abitudine italiana che quando si fallisce nessuno vuole dimettersi Vorrei solo dire, citare un grandissimo scrittore che era Tommasi di Lampedusa che diceva se non vuoi, frase diciamo abbastanza controversa ma che in questo momento calza a pennello se non si vuole che si cambi nulla bisogna cambiare tutto è quello che avverrà perché adesso vedremo questi finti cambiamenti a livello manageriale della Federazione Italiana Gioco Calcio che non porteranno a nulla se non che la politica metterà sempre le sue mani nello sport e nelle decisioni più importanti Faccio presente che ieri il carnefice cioè una FIGC che aveva appena ucciso il calcio italiano stava decidendo come curarlo questo veramente è vergognoso di un paese che non conosce la parola meritocrazia e non ha le palle per poter decidere in libertà cosa fare Faccio presente solo che Ventura, Uva, Ulivieri e Tavecchio hanno più di 70 anni che non vuol dire che chi ha 70 anni è incapace ma che sono persone che sono in quest'ambito da decenni e che non hanno mai portato risultati infatti i risultati sono che dopo la vittoria del 2006 e quindi 2010-2014 siamo usciti fuori ai gironi e oggi abbiamo completato l'opera non entrando neanche nei mondiali mi chiedo cosa deve succedere perché una dirigenza del calcio italiano possa dimettersi in seduta stante dopo una sconfitta del genere ci vuole la guerra nucleare? non lo so, ditemi voi questo è il costume più brutto che porta a un paese alla distruzione all'autodistruzione quella di non ammettere le proprie colpe e di andarsene purtroppo oggi il calcio in Italia è lo specchio della società italiana di uno stato che ormai è alla deriva dove non c'è più nessuna prospettiva di crescita perché non si vuole programmare si ha paura di programmare si guarda all'oggi per il domani io chiedo coraggio a queste persone se ne hanno perché oggi è necessario che il calcio vada in mano a persone che siano capaci, competenti si parla tanto di giovanili, di primavere sì, tutto vero ma quello che conta è avere programmazione programmazione non c'è e se non ci sarà neanche questa volta a Qatar 2022 penso che non ci andremo lo stesso e non è un auspicio naturalmente perché i risultati vengono appunto dalla programmazione un plauso grandissimo ai condottieri che hanno cercato in tutti i modi di lottare e di portarci a questo mondiale che sono Buffon, Barzagli, Chiellini e De Rossi sinceramente mi dispiace per loro perché concludere con le solite lacrime come è successo due anni fa agli europei fa veramente male mi auguro solo che questa sconfitta faccia riflettere un po' tutti perché non è solo il calcio che è immalato in Italia è immalato lo sport perché i risultati di un certo livello noi nel basket, nella pallavolo in tutti gli altri sport non li otteniamo più vi faccio solo un esempio per chiudere domenica sera vedendo una partita di campionato di Serie A maschile di pallavolo una squadra aveva su sei elementi cinque stranieri e altrettanti in panchina allora questo ci fa capire come noi non possiamo andare avanti se abbiamo questa idea dello sport e soprattutto nel capire che i nostri giovani hanno le stesse potenzialità e gli stessi mezzi e soprattutto la stessa voglia di emergere come ce l'hanno quelli che vengono dall'estero sempre un Forza Azzurri e da oggi pensiamo adesso al campionato e pensiamo alla nostra Juve che forse meriterebbe ancora più considerazione ascoltando anche alcune dichiarazioni del signor Civoli che ha messo in mezzo la Juve anche ieri sera quando c'era la nazionale veramente sconcertante un abbraccio di nuovo ciao